Salve, questo è un video breve per spiegare quali sono i vantaggi nell'usare le impalmature al posto dei nodi. Intanto questo è un cavo in denema, comodo da impalmare ma si può fare con tutte le corde, anche la classica corda da ferramenta. Allora, vantaggi dell'impalmatura. Qua facciamo un classico nodo e vediamo che il capo principale passa dentro, eccolo, questo qua sotto, poi fa il giro, fa l'occhiello e poi finisce con l'altro terminale corto. Che succede? Quando va in trazione, lavora solo parte del cavo, quindi lavora questa parte, cavo lungo, poi c'è un accumulo di forze sul nodo e poi parte l'occhiello. Che succede? Il cavo è composto da fibre, in questo caso qua abbiamo 12 fili, ognuno composto da tantissime fibre. Il nodo strozza le fibre, è vero che non fa sciogliere la corda, per carità, però blocca l'allineamento delle fibre. Quindi le fibre ne lavorano la metà e quindi una corda fatta così lavora con un carico di mezzate del 50%. Invece, in più, dimenticavo, è brutto da vedere. Invece, questo ad esempio è un loop ad alto carico, tutto è intrecciato, non si vedono congiunzioni. Le fibre sono tutte allineate, non ci sono strozzature e quindi può lavorare al 95% del suo carico. Perché comunque qualcosa viene dimezzato, quindi per comodità si toglie un 5% per stare nei margini di sicurezza. Questo è quanto.